Salve a tutti e benvenuti su All Beats TV, all for you, tanto prima o poi viene pure tu su All Beats TV. Andiamo con un'altra piccola canzone che viene dal titolo Immaginato. Vado, uno, due, tre. Nessuno avrebbe mai pensato nella sua vita immaginato, immaginato, che il paese potesse cadere così in basso ed essere ogni giorno umiliato e così maltrattato e così maltrattato. Abbiamo dovuto vedere e vivere anche questo momento, ma insistono e non mollano. Au, non vogliono sparire, au, non vogliono sparire. Di danni ne hanno fatto abbastanza, il paese non ne può più. Ma fanno finta di non capire, fanno finta di non capire. Pensate un po' voi quando escono di casa e sfilano. È terrificante, ma terrificante. Ma niente, continuano. Esilerante, esilerante. La gente se ne va in campagna per non vedere uno spettacolo, a dir poco, imbarazzante. A dir poco, imbarazzante. Molto, ma molto pesante. Però è insignificante. Però è insignificante. Nessuno avrebbe mai pensato. È nella sua vita immaginato, immaginato, che il paese potesse cadere così in basso ed essere ogni giorno umiliato e così maltrattato e così maltrattato. Abbiamo dovuto vedere e vivere anche questo momento, ma insistono e non mollano. Au, non vogliono sparire. Au, non vogliono sparire. Di danni ne hanno fatta abbastanza. Il paese non ne può più. Ma fanno finta di non capire. Fanno finta di non capire. Pensate un po' voi quando escono di casa e sfilano. È terrificante, ma terrificante. Ma niente, continuano. Esilerante, esilerante. La gente se ne va in campagna. Per non vedere uno spettacolo, a dir poco. Imbarazzante, imbarazzante. Molto, ma molto pesante. Però è insignificante. Però è insignificante. Ma loro non lo capiscono. Oh, le pezze di vu. Oh, il furio. Tanto prima o poi viene pure... Tu, puoi ricevere una restata ferma quando mai. Cavalori giganti per tutti quanti. Con questo vi saluto e vi rimando alle prossime. Come sempre, allbizze di vu. All for io. Tanto prima o poi viene pure... Tu, arrivederci.